Cosa dire? Lo abbiamo appena saputo e non riusciamo ancora a crederci, quindi non siamo nella pelle. Los Angeles 2028 era un sogno fino a qualche anno fa, veramente quasi un miraggio, poi un sogno che sembrava potersi realizzare in quest'ultimo anno, in questi ultimi mesi. Si è avvicinato sempre di più e adesso abbiamo avuto questa notizia. Per noi cambia il mondo, cambia il mondo per gli atleti, è una possibilità veramente di far crescere questo sport e per loro di diventare dei professionisti. Quindi questa forse in assoluto è la cosa che ci rende più orgogliosi e più felici. Allora, che effetto mi fa? Madonna! È una notizia che aspettavamo da così tanto tempo, penso quando ho iniziato a scalare dieci anni fa, che si vociferava, che in un futuro si potevano le Paralimpiadi, e quindi è un sogno che si avvera, è il sogno di ogni atleta, è il massimo che si possa raggiungere. È una grandissima responsabilità, è tanta gioia e tanta paura comunque, perché è importante, cioè è importante perché appunto c'è la possibilità che si possa andare, quindi ovviamente si vuole dare tutto, quindi ogni tanto mi sento dentro tipo, ma quattro anni basteranno per arrivare al massimo di quello che potrei mai arrivare. Quindi è uno stimolo fortissimo di continuare a fare tutto il lavoro che si sta facendo e vedere, aver visto quanto è cresciuta la federazione fino adesso e vedere quanto ancora potremo crescere è un sogno che ti aiuta a perseguire tutti gli obiettivi quotidiani. Per me personalmente mi conferma le grandi scelte di vita che ho fatto, la scelta di lasciare tutto e crederci, credere di essere un atleta e vivere come un atleta, quindi proprio a livello professionale, anche se appunto le Paralimpiadi finalmente dovrebbero aprirci anche questa strada qua, perché per ora era tutto un volere, volere proprio interno e far sì che tutto combaci per farlo accadere. Quindi è un'emozione indescrivibile. Quando io l'ho scoperto ci ho messo tanto a saltare di gioia, ci ho messo proprio tanto perché non ci potevo credere, cioè ce l'hanno detto per così tanto tempo che ho detto ho paura che si siano sbagliati, ma allo stesso tempo sapevamo che arrivava dentro di noi e appunto è un mondo che comunque coinvolge tanto, coinvolge tante disabilità e lancia un messaggio a tutti di ciò che si può fare e di tutti i limiti che sono solo dentro di noi, quindi ovviamente è bello mostrarlo al mondo. Io mi auguro che tutto questo aiuti ad amplificare tantissimo l'importanza della rampicata, sia in assoluto che nelle capacità personali, cioè far capire alla gente che la rampicata vista come cosa quasi impossibile diventi, non dico normale, ma accessibile a tutti. È un'emozione grandissima, è un sogno che si realizza intanto e sarebbe veramente straordinario poter partecipare. Per me è un grande obiettivo, è stimolante, emozionante, tutto. È molto, 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 molto bello, quindi dai tutta. Sono molto contento che il nostro sport è diventato paralimpico. Penso che così il nostro sport riceva l'attenzione speciale e anche più gente diventa motivato a provare e scalare. E spero che posso anche scalare io a Los Angeles. Siamo molto felici, complimenti alla federazione internazionale, al Comitato Paralimpico internazionale, che sono riusciti ad arrivare a questo importantissimo obiettivo, obiettivo fondamentale anche per noi, per la crescita dello sport, per la crescita di uno sport, l'arrampicata in generale, che in questo momento è esponenziale, ma sarà, e lo è già, lo vediamo, anche per quanto riguarda il settore paraclimbing, sarà sempre più un settore partecipato da tantissimi ragazzi, da tantissimi giovani. E quindi l'obiettivo delle Paralimpiadi a Los Angeles 2028 sarà sicuramente un ulteriore stimolo per la crescita di questo importante settore.